In corso in questi istanti presso gli uffici dell'assessorato regionale al lavoro in via Passolanciano a Pescara il tavolo che è stato convocato dalla regione tra i sindacati CGL, CISL e UIL e i vertici aziendali di Alfa Gomme, ex sito Yokohama di Ortona. Al centro di questo tavolo la vertenza ex Yokohama con i sindacati che chiedono di rispettare gli accordi presi in fase di acquisizione di Alfa Gomme dell'ex Yokohama di Ortona. Con le immagini di Diego Martelli possiamo vedere appunto il tavolo tecnico che è in corso in questo momento e possiamo anche ascoltare le interviste che abbiamo poco fa fatto all'assessore regionale allo sviluppo economico Daniele Damario e ai sindacati. Presenti anche i vertici aziendali che però non hanno voluto rilasciare interviste. Daniele Damario, assessore regionale allo sviluppo economico. L'assessore ovviamente ha istituito un tavolo di monitoraggio per vedere in che fase si trova l'accordo siglato all'epoca con l'ingresso di Alfa Gomme al posto di Yokohama. Oggi sentiamo cosa dicono le parti, c'è qualche inadempienza da parte dell'azienda, le parti sociali vogliono rivendicare l'accordo firmato a suo tempo, vedremo di far combaciare le parti ed arrivare a una soluzione che salvaguardi ovviamente i lavoratori ma allo stesso tempo possa mettere l'azienda in condizione di rispettare gli accordi. Ettore Di Natale della Femca Cisla per Abruzzo e Molise oggi si torna a parlare dell'ex Yokohama, Alfa Gomme, una vertenza ancora aperta dopo due anni appunto di Alfa Gomme. Cosa è che chiedete sedendovi a questo tavolo convocato dalla regione con i vertici dell'azienda? Sono esattamente due anni oltre dal 27-11-2020, ormai siamo arrivati alla scadenza dei due anni, abbiamo dei contratti scadenza del 23 di dicembre. Diciamo che questo per quel che ci riguarda è l'ultimo incontro dove l'azienda dovrà mettere nero su bianco l'assunzione di questi contratti a tempo indeterminato. L'azienda sulle 85 unità ex Yokohama si era presa l'impegno di assumere almeno il 90% dell'unità, ad oggi invece ne ha assunte a tempo indeterminato solo 21 unità. Noi chiediamo che vengano assunti tutti i contratti a tempo determinato che oggi lavorano tra Ortona e Sant'Atto, più le 8 unità di lavoratori che in questi due anni non hanno mai lavorato. Quindi per un totale al di sotto del 90% un impegno che loro si possono prendere tranquillamente. C'è un altro aspetto che l'accordo stesso non è stato onorato da parte di Alfa Gomma, perché su alcuni contenuti del quanto riguarda il piano industriale, alcune tipologie di prodotti in questi due anni non sono mai andati su Ortona, come loro avevano definito. Quindi noi chiediamo oggi che l'azienda assume tutte queste unità. Tutte le persone dell'ex Yokohama per passare in Alfa Gomma hanno dovuto sottoscrivere un verbale di conciliazione sindacale dove rinunciavano all'incentivo della Yokohama. E Alfa Gomma disse che tutti quanti dovevano firmare questo verbale, se no il piano industriale, il progetto Alfa Gomma non sarebbe decollato. Noi chiediamo il rispetto agli accordi che oggi l'azienda dica nera su bianco che assumeranno queste persone.